Sabaf è leader mondiale nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di componenti per apparecchiature di cottura a gas per uso domestico. Investe nell'innovazione tecnologica e nella formazione professionale dei propri collaboratori per creare un prodotto dalle caratteristiche uniche di efficienza e di affidabilità. Tutte le fasi produttive vengono affrontate con la massima professionalità e precisione e con l'utilizzo dei più sofisticati strumenti a disposizione dell'automazione industriale. Oggi la sede principale è in Italia, nel nuovo complesso industriale di ospitaletto in provincia di Brescia, dislocato su una superficie di 120.000 metri quadrati, con tre unità produttive e un magazzino completamente automatizzato. È questo il suo nucleo operativo e il simbolo del suo primato tecnologico. La storia dell'azienda comincia a Lumezzane negli anni 50. Presto la sua attività si specializza nella produzione di componenti per apparecchi di cottura a gas. Nel 1993 l'azienda ottiene la certificazione ISO 9001. Sempre negli anni 90 si intraprende il riassetto organizzativo che la porta alla quotazione alla borsa italiana e successivamente all'inserimento nel listino STAR. Sabaf segue un percorso di gestione responsabile orientato al miglioramento continuo della cultura di impresa e allo sviluppo sostenibile, dove ogni scelta di gestione contempera la sostenibilità economica, sociale e ambientale e di cui il bilancio sociale rappresenta il momento di comunicazione e di condivisione con tutti gli interlocutori, collaboratori, azionisti, clienti, fornitori, istituzioni, comunità. Parallelamente allo sviluppo interno, Sabaf procede all'espansione sui mercati internazionali, prima con l'apertura della Sabaf do Brasil, poi con un ufficio di rappresentanza in Cina. Successivamente acquisisce la Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie. Oggi, grazie ad una corta strategia di internazionalizzazione, l'azienda esporta con successo i suoi prodotti in 52 paesi. La condivisione del disegno strategico e degli obiettivi di sviluppo aziendale accomuna tutte le persone che prestano la loro opera all'interno di essa. Sono loro la prima ed autentica risorsa dell'azienda. Grazie alla competenza industriale e tecnologiche, Sabaf ha assunto un ruolo sempre più determinante nel contesto dei componenti per la cottura a gas, come dimostrato dalla costante crescita del fatturato e dal potenziamento della produzione sia in Italia sia all'estero. Fattori questi che costituiscono una garanzia della capacità di competizione economica a livello mondiale e della solidità del suo progetto industriale. Grazie a tutti.